Ben ritrovati, noi siamo ospiti ancora una volta qui a Novara presso la dimora dell'avvocato Antonio Costa Barbet che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare per questo ultimo incontro nell'ambito di un progetto culturale voluto fortemente dall'associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma. Perché Antonio la cultura è il motore del progresso, della civiltà e della società. Certamente. Io ho portato una mia cultura, qualche sprazzo, qualche daem proprio di cultura che è anche un po' atipica rispetto agli argomenti di cui parliamo di solito quando usiamo questo grosso termine. Però non è sicuramente aliena perché tutto quello che ho vissuto, ho cercato, a volte un po' per caso, a volte con insistenza, con ostinazione, mi è servito a maturare... Ecco, è arrivata Dream. E a maturare anche delle convinzioni vie che andavano al di là di quelle che erano semplicemente le mie ricerche del momento. Abbiamo detto la volta scorsa che avremmo concluso questo ciclo di incontri con un incontro virtuale perché Mia Martini mi è sfuggita perché non ricordo il motivo esatto ma non riusci mai ad andare a vedere un suo concerto dal vivo. Io avevo quasi arrivato alla possibilità di contattarla, di incontrarla, quando purtroppo mancò nel maggio, mi pare, del 1995. Io avevo imparato a conoscerla da un disco che è stato un grande successo, Piccolo Uomo, scritto anche da Lauzzi. Poi il periodo buio perché anche perché c'era questa diceria, questa purtroppo nel mondo dello spettacolo è facile la superstizione o la... La cattiveria, questo caso. La cattiveria anche, però che costò moltissimo a Mia Martini. E il momento della sua rinascita con Almeno tu nell'universo che era il Festival di Sanremo dell'89. In quel momento sembrava che lei dovesse ritornare in auge, la sua voce era già un po' provata, perché quella degli inizi mi aveva colpito ancora più a volte della nostra grande mina nazionale, a cui pure leviamo... Abbiamo detto tutto, sì. Bene, io a quell'epoca avevo una situazione con un piccolo gruppo, ma non per questo meno importante, Elicchia, che era un gruppo benefico nel giro degli oratori. Ma lo dico nel senso buono, nel senso del termine. Per cui avevamo portato in giro due spettacoli scritti da noi, da me, da Dario Artuso, da Claudio Iodice, con canzoni quindi sostanzialmente nostre. E qui io scrisse una canzone che mi venne, tornando dal tribunale oltretutto, Ave, alla forza che c'è in te. Così, questa cosa mi girava, eccetera. E in quel momento composi testo e musica di questo pezzo, Ave, dedicato a un'amica triste, a una donna, che appunto forse doveva fare il grande salto tra l'adolescenza e la vita reale, che però aveva in sé tante potenzialità, un po' già espresse e ancora un po' da esprimere. Ma lo scrissi per lo spettacolo Dalla stazione del nostro cuore. Quindi l'aveva cantato un interprete femminile del nostro piccolo gruppo Elicchia, che significa speranza. E incisi questo demo, Ave, pensai che fosse adatto a mia Martini. Però come farglielo avere? Qui si innesta una situazione giuridico-legale. C'era l'ex batterista dell'Equipo 84, il piccolo Alfio Cantarella. Io lo contattai, mi ricordo che ebbe un sussulto quando dissi che aveva avvocato. Ma dico, no, ma non è perché... Perché ho saputo che lei, insomma ci si dava anche di lei all'epoca, organizza degli... Ma sì, ma lei conosce mia Martini alla... Ma dice lui, ho uno spettacolo a Verona in cui dovrebbe esserci anche lei. Vabbè, insomma, lo andai a trovare alla sua abitazione di Cerano, portai questa cassettina con il demo e lui mi disse che l'avrebbe fatta ascoltare a mia Martini. Onestamente io poi non so che cosa accadde. Nel 95 facciamo uno spettacolo al Teatro Coccia per un amico che era mancato e viene a cantare Aida Cooper. Se non ricordo male, c'era stata anche tra mia Martini e Aida Cooper una sorta proprio di convivenza, ma direi anche necessaria, così per condividere le spese dell'alloggio, eccetera. e allora io mi faccio avanti, dissi, ma tu, sì, ma io potrei effettivamente chiedere a mia se per caso ha sentito, sono cose che si dicono, la tua canzone. Dico, va bene. Purtroppo, pochi giorni dopo, la ferrale notizia mia era mancata e quindi rimase questo demo, questa storia e questo incontro che non ci fu, quindi un incontro virtuale. Quest'anno ricorre il 25 annale della sua scomparsa. vedremo se questa canzone potrà essere finalmente conosciuta magari da un pubblico più vasto. Come scrissi in questo pezzo quando mancò su un giornale locale mia cara, non ci siamo mai conosciuti personalmente, non ebbi neanche occasione di assistere a un tuo concerto, ma la tua voce e le tue canzoni mi hanno sempre incredibilmente emozionato. E poi le dicevo, accennavo a questa canzone che avevo scritto che non sapevo se lei avessi ascoltato o no e concludevo dicendo magari adesso ave la sentirai assieme al coro di tutte le radio d'Italia che oggi alle 4 di pomeriggio ti chiameranno ospite infinita sulle ali dei megahertz ave alla donna che c'è in te ave alla luce che riavrai ti risveglierai poi sorriderai ad un nuovo giorno che ha il sapore di un ritorno e il silenzio vivrà dove l'eco griderà ave ci avviamo alla conclusione però però io ho pensato però dobbiamo ancora dire alcune cose importanti abbiamo avuto all'inizio di questo ciclo di incontri la presentazione degli amici del gruppo Mesotelioma e abbiamo raccontato e rammostrato le immagini dei miei incontri con i personaggi però io vorrei lasciare anche qualcosa di tangibile da quasi tutti questi incontri sono scaturiti piccoli oggetti vuoi un autografo vuoi un libro a tiratura limitata che avevamo fatto per De André vuoi una firma di Carl Anderson vuoi un... non abbiamo parlato di alcuni incontri tra virgolette minori ma con personaggi incredibili della musica chiamiamola rock ma è limitativo Kit Tippett è mancato da poco pianista jazz rock all'avanguardia e Julie Griscola ci sono anche... ecco per esempio eh questa andava inserita nella storia del primo Jesus a Novara al Teatro Coccia perché il giorno successivo al 10 marzo del 75 i legnanesi interpretavano al Teatro Coccia questo è Felice Musazzi l'autografo i pover Christ Superstar e quindi questi oggetti io vorrei lasciarli al gruppo amici dell'autografo di Sordi al gruppo amici di Mesotelioma perché ne facciano il miglior uso perché non finiscano appunto come l'arca dell'alleanza dell'energia, del potere che in Indiana Jones nel primo film finisce come ho già detto una volta con questo campo lungo all'indietro dove spingono questa cassa dove non si saprà più neanche che cosa ci sia sono piccole cose ma sono abbastanza importanti per dare la stura magari all'approfondimento di quei momenti un po' alternativi di cultura di cui abbiamo parlato in tutti questi incontri Antonio è stato un privilegio davvero incontrarti, conoscerti poter discorrere con te di tanti aspetti quelli appunto che hanno caratterizzato a me ha fatto molto piacere questo percorso soprattutto umano e ci lasciamo davvero con un arrivederci e con un invito perché tu possa tornare nella nostra città Lecco dove già sei stato è stato vero quindi è davvero soltanto un arrivederci arrivederci e grazie ancora a tutti Grazie a tutti